Il nostro pubblico, i nostri tifosi, lo sapete, noi ci danno quella carica, quel calore che serve a una squadra quando gioca in casa, perché se no non esisterebbe la partita in casa e la partita fuori. Se il Barcellona ha fatto 6 gol rimontando 4 gol in casa, però ha perso 4-0 fuori casa, quindi capite bene quando si gioca in casa che qualcosa in più si può dare e si deve dare, perché comunque il nostro pubblico ci spinge, lo sentiamo vicino, ci sono tante motivazioni in più, ma noi dobbiamo crescere sotto questo aspetto qua perché quello che si fa in casa intanto bisogna farlo bene, prima di tutto, quindi bisogna essere bravi a fare domani una partita di qualità e di furor agonistico, per me, come pensiero, e poi chiaramente davanti ai nostri tifosi dobbiamo essere bravi a riscattarci della sconfitta in merita da Carpi, però è arrivata, quindi ne prendiamo atto e cercheremo di migliorare da domani alla prossima partita, perché ripeto, le partite sono tante, i punti sono tanti da conquistare e bisogna andarci in campo con il giusto atteggiamento per farne il più possibile, senza guardare la classifica. Io conosco la mia squadra, conosco i miei uomini, sappiamo che quando si arriva da una sconfitta bisogna essere bravi a risettare e ripartire e bisogna farlo con grandissima personalità, grandissimo, secondo me, atteggiamento e io sono convinto che domani faremo una grossa partita, a prescindere dall'avversario, che non bisogna guardare troppo l'avversario, ma bisogna guardare soprattutto noi stessi, quindi mi aspetto uno spezia Garibaldino, uno spezia che ha voglia di andare sopra l'avversario e produrre gioco di qualità, ripeto, produrre gioco di qualità con un furor agonistico adeguato alla partita.